Valeria Pizzolato, MVP di questa partita, seconda vittoria consecutiva per voi, un'importante iniezione di fiducia in vista della settimana che vi attende? Sì, sarà una settimana molto difficile, siamo molto contenti di averla cominciata con una vittoria, loro sono una squadra che non molla, quindi sapevamo che non sarebbe stato facile. Sei stata costante per tutta la partita, a un certo punto sembrava esservi sfuggita un po' di mano, poi siete riusciti a strappare in estremis il terzo set e da lì la gara è stata in discesa. Sì, il secondo set abbiamo un po' sofferto la loro difesa perché loro non fanno cadere davvero una palla e l'abbiamo un po' subito, però ci siamo subito riscattate nel terzo set perché sapevamo sarebbe stata così.